Musica Io sono Francesca Busca, Vicepresidente della GFH, nonché referente del Centro di Documentazione e Informazione Indicap. Innanzitutto, questo è l'inizio, questo pomeriggio, è un'apertura alla rassegna Storie straordinarie in tutti i sensi. È per questo che siamo qua. Storie straordinarie in tutti i sensi nasce nove anni fa e ad oggi c'è grazie appunto alla collaborazione della Mediateca Montanari. È una finestra sul mondo della disabilità, ma soprattutto è finalizzato tutto il programma all'inclusione e allo sviluppo della cultura della disabilità. Oggi iniziamo con un convegno dal titolo Movi Mente, tenuto dal dottor Tognon, che è un pedagogista, dal maestro di giudo Farinelli, nonché dalla pedagogista Sara Fraccaroli. Sono degli esperti, appunto come si è specificato, sono dei pedagogisti nonché degli insegnanti di attività motoria. E in pratica questo convegno del pomeriggio si sviluppa tematiche relative all'interrelazione fra il corpo e la mente. Quindi come inizio è stato scelto questo argomento proprio perché lo sviluppo delle abilità cognitive parte dallo sviluppo delle attività motorie. Quindi all'interno di questo percorso iniziamo con questo convegno. Seguitiamo nei prossimi giorni a venire con interventi relativi al lavoro, relativi ai disturbi dell'alimentazione, interventi nella fascia dell'infanzia e dell'adolescenza. Dopodiché ci sarà una tavola rotonda per quello che riguarda un progetto interazione dell'ambito di Pesaro relativo alla valutazione del livello di integrazione scolastica nelle scuole e negli istituti comprensivi dell'ambito di Pesaro e poi una presentazione del percorso educativo al lavoro che è attivato dalla cooperativa Labirinto. E nel pomeriggio c'è un interessantissimo convegno su disabilità e sessualità promosso dall'associazione Area che è un'associazione regionale di associazioni di tutela a cui anche noi come AGFH ne facciamo parte, dove verrà trattato in modo molto ampio e di livello la tematica della sessualità e della disabilità. Quindi anche quest'anno verranno trattati tanti argomenti ma ci saranno laboratori tenuti dai servizi educativi del Comune e dalle associazioni di tutela come la WICI e saranno presenti gli interpreti LIS inviati dalla cooperativa Labirinto. LIS inviati dalla cooperativa Labirinto.